dignità umana lavoro misericordia sono i temi emersi con maggiore vigore durante la visita di papa francesco a prato e firenze martedì in occasione del quinto convegno nazionale della chiesa italiana sul tema in gesù cristo il nuovo umanesimo prima tappa la cosiddetta città di maria che custodisce la reliquia della sacra cintola della madonna ai rappresentanti della comunità ecclesiale civile imprenditoriale operaia di prato il pontefice ha ricordato che di fronte alle trasformazioni spesso vorticose di questi ultimi anni c'è il pericolo di subire il turbine degli eventi perdendo il coraggio di cercare la rotta invece il padre celeste ci invita a rinunciare a un porto sicuro per prendere il largo a non rimanere chiusi nell'indifferenza a correre rischi per piantare tende di speranza dove accogliere chi è ferito mi permetto qui ricordare i cinque uomini e le due donne di cittadinanza cinese morti due anni fa a causa di un incendio nella zona industriale di prato è una tragedia dello sfruttamento e delle condizioni inumane di vita e questo non è lavoro digno la vita di ogni comunità esige che si combattano fino in fondo il cancro della corruzione il cancro dello sfruttamento umano e lavorativo è il veleno dell'illegalità si parla di nuovo umanesimo di nuova evangelizzazione l'umanesimo è mettere al centro l'uomo e mettere al centro l'uomo vuol dire mettere al centro gesù quindi questo deve essere un impegno quotidiano nella splendida città di firenze dopo una breve sosta nel battistero papa francesco si è recato nella cattedrale di santa maria del fiore dove ha tenuto un discorso intenso e programmatico ai vescovi italiani ai 2.500 delegati del convegno ha chiesto di non cercare di addomesticare la potenza del volto di cristo che ha versato il proprio sangue per la salvezza di tutti e non di pochi di portare per le strade del mondo l'umanesimo cristiano che non dovrebbe mai essere narcisista e autoreferenziale di costruire piazze ospedali da campo e non muri e frontiere tra gli uomini e le donne prostrati dalle fatiche della vita e dal peccato il vangelo dice appunto papa francesco è rivoluzionario cosa vuol dire vuol dire che il vangelo non lascia la persona con me ma non lascia neanche la società e il mondo con me cambia radicalmente se uno ovviamente la coglie e se lo mette in pratica incarnandolo nel suo vissuto concreto la chiesa deve uscire quindi dalle sue diciamo diciamo un po dalla sua autorità insomma in qualche modo che così pensa di esercitare all'interno della sua rete parochiale o diocesana deve andare nelle periferie cioè deve andare da dove vive e opera la gente per ascoltare anzitutto e poi per offrire una risposta non tante semplicemente così di pensieri o di cose da fare ma in concreto di come si può veramente dare una risposta e io direi non solo una risposta anche una proposta con indicazioni pratiche concrete il pontificio ha ricordato che i viscovi devono essere i pastori non predicatori di complesse dottrine sostenuti dalla preghiera e dal proprio popolo e che la chiesa deve essere una mamma amorevole lontana dalla tentazione del potere e del denaro capace di dialogare e di offrire una carezza agli orfani del nostro tempo mi piace una chiesa italiana inquietta sempre più vicina agli abbandonati ai dimenticati agli imperfetti desidero una chiesa lieta col volto di mamma che comprende accompagna a carezza sognate anche voi questa chiesa credete in essa innovate con libertà uscire è prima di tutto uscire da noi stessi perché ciascuno di noi si è un po costruito una specie di bolla protettiva per non lasciarsi troppo turbare da quello che sta fuori la prima uscita è l'uscita da noi non c'è altra uscita che tenga se non siamo capaci di fare questo passo e poi anche uscire dalle nostre certezze quelle in cui ci sentiamo protetti a nostro agio e cercare anche di andare incontro a chi la pensa diversamente da noi per esempio senza paura che il dialogo ci contamini o ci metta in confusione il dialogo ci aiuta a crescere a capire meglio chi siamo e a poter portare un contributo positivo alle persone con cui appunto accettiamo di dialogare e poi anche uscire da dalle nostre abitudini dalle nostre cerchie normali capire che il mondo è grande che le persone sono tante i bisogni sono tanti e possiamo conoscerli soltanto avvicinandoci i numerosi presenti in cattedrale sono stati messi in guardia da due tentazioni quella pelagiana che spinge la chiesa a non essere umile disinteressata e beata e quella dell'ognosticismo che porta a confidare nella ragionamento logico e chiaro il quale però perde la tenerezza della carne del fratello tre invece sono i sentimenti che mettono in moto l'autentico umanesimo cristiano umiltà disinteresse beatitudine infine un pensiero è andato ai giovani che non devono cedere all'apatia o a guardare dal balcone la vita ma impegnarsi immergersi nell'ampio dialogo sociale e politico edificando una società costruita su rapporti in cui l'amore di dio è il fondamento concluso l'incontro con i rappresentanti del convegno ecclesiale italiano poco prima di mezzogiorno il pontefice si è recato nella basilica della santissima annunziata dove ha recitato l'angelus con alcuni ammalati e disabili che ha poi salutato individualmente in un'agenda fitta di incontri non è mancato l'abbraccio con gli emarginati con i quali ha pranzato nella mensa di san francesco poverino noi pensiamo davvero di essere sempre in debito con i nostri poveri e quell'esempio che lui ha fatto anche della medaglia spezzata a noi fiorentini molto cara rapportandola alla chiesa che ha la metà della medaglia nel palmo della mano e che deve cercare l'altra metà nei poveri ecco noi tutti i giorni in carita se ci sforziamo di fare questo lui oggi con questa immagine ci ha confermato ci ha rafforzato nella passione nel desiderio non di stare con i poveri ma di vivere da poveri perché tanti che sono nella miseria possano riscoprire la bellezza di una povertà che è fatta di sobrietà di semplicità di stile con l'ascolto la presenza i gesti tangibili la chiesa deve mantenere un sano contatto con la realtà con ciò che la gente vive con le sue lacrime e le sue gioie e papa a bergoglio lo ha ricordato celebrando la messa nello stadio franchi presenti 50.000 persone precisando che sull'esempio del figlio di dio l'unico modo per parlare ai cuori delle persone è toccare la loro esperienza quotidiana il lavoro la famiglia i problemi di salute il traffico la scuola i servizi sanitari la nostra gioia è anche di andare contro corrente e di superare l'opinione corrente che come allora non riesce a vedere in gesù più che un profeta o un maestro la nostra gioia è riconoscere in lui la presenza di dio l'inviato dal padre il figlio venuto a farsi strumento di salvezza per l'umanità grazie 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 grazie